E adesso andiamo a Penne dove vedete c'è Stefano Recanati all'interno del municipio, si è da poco concluso il Consiglio Comunale, allora linea a te Stefano. Buonasera Alfredo, buonasera ai telespettatori di TV6, in realtà si sta ancora svolgendo il Consiglio Comunale, per questo ringraziamo subito Gilberto Petrucci che ha fatto uno strappo alla regola e ci ha raggiunti immediatamente. Allora, due importanti novità in questo Consiglio Comunale perché c'è stata la sospensione dei tributi fino al 30 giugno 2020, Gilberto, e adesso si savvoterà il bilancio, non ci saranno problemi, ecco una grande prova di maturità di tutta l'amministrazione comunale. Sì, abbiamo deciso con senso di responsabilità di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 all'interno del quale ci sono provvedimenti importanti per la nostra comunità come la riduzione di alcune tasse, ma soprattutto abbiamo posticipato la scadenza di tasse imposte al 30 giugno 2020. È stato un lavoro importante svolto da tutti i consiglieri e ringrazio ovviamente la maggioranza, ma anche le forze di opposizione che hanno dato un contributo importante. Peraltro il bilancio di oggi è il quinto di questa amministrazione che dopo un valido percorso di risanamento ci ha portato chiaramente oggi a risanare lo strumento più importante di programmazione dell'ente. Ecco, approvare un bilancio in questo periodo non è facile? Non è stato facile, ma questo dimostra che quando la politica vuole dare messaggi positivi è in grado di farlo e quindi abbiamo dimostrato soprattutto di essere vicini ai cittadini, nonostante l'emergenza epidemiologica. Ecco, oltre questo c'è ancora comunque l'epidemia che circola tra di noi. Come è la situazione qui a Penne? Da una decina di giorni abbiamo la curva dei contagi pari a zero, tranne ieri che si è verificato un tampone positivo di un nostro cittadino però che non risiede a Penne, quindi siamo fiduciosi che il lavoro svolto, le restrizioni sanitari della zona rossa hanno portato benefici. Invece situazione presso il San Massimo, l'ospedale di Penne? Da lunedì sono state avviate le attività ordinarie, sono tornate quindi a funzionare i laboratori e soprattutto i reparti di diagnostica, quindi questo presuppone che l'ospedale ha superato anche questa prova importante. Alfredo, non so se hai una considerazione o una domanda per l'assessore. Sì, volevo chiedere all'assessore quali misure sono state messe in campo per dare una mano alla piccola economia locale, penso ai ristoratori, ma non solo, che in questo periodo di ripartenza soffrono molto. Abbiamo previsto l'essenzione della TOSAP per quanto riguarda bar, paninoteca e gelateria, abbiamo sospeso e cancellato, diciamo così, tra virgolette, esentato tutti gli operatori economici della città al pagamento dei latari nei mesi in cui praticamente non si è svolta l'attività, sono rimasti chiusi. E soprattutto abbiamo costituito un fondo di circa 12 mila euro a sostegno del reddito delle famiglie, ovvero andremo ovviamente a pagare bollette per tutti quei nuclei familiari che sono in difficoltà. Ecco, qual è il polso della situazione che voi avete appenne in questa fase 2? Abbiamo visto qui sulla costa si è molto concentrata l'attenzione ovviamente sulla ripartenza della stagione balneare. Invece, lì da voi, nell'abbruzzo interno, quali sono le esigenze più pressanti? Noi naturalmente puntiamo soprattutto a valorizzare il tessuto della piccola e media impresa, ma soprattutto a rilanciare il turismo perché chiaramente con l'emergenza e soprattutto nella fase 2 e 3 ci sarà un turismo diverso, quello di casa nostra. Punteremo a valorizzare la filiera enogastronomica e soprattutto le nostre eccellenze culturali e artistiche come appunto i musei e l'artigianato artistico dei nostri territori.